buongiorno a tutti bentornati qui su canale youtube di cultura pop io sono sempre vittor alas88 stavolta con l'ospite speciale il buon killam deal che voi non lo sapete mai capoccia di cultura pop eminenza grigia eminenza grigia di cultura pop e perché sei qui oggi mauro come mai invasi i miei spazi poi invasi i tuoi spazi perché ho portato qui parte della mia collezione libri game per parlare proprio di questo argomento ne stanno uscendo tantissimi so che anche tu sei un appassionato di libri che fin da quando ero bambino adesso spieghiamo poi cosa sono libri game perché non tutti quelli che stanno guardando questo video sono magari informati anche se è difficile non aver mai incontrato sulla propria strada un libro game a meno che non hai nove anni e dubito che ci seguono i bambini nove anni spieghiamo che cosa sono i libri game sono un'invenzione degli anni 70 e sostanzialmente erano un modo di intrattenere i ragazzi un po alternativo sostanzialmente sono dei libri con le scelte ci sono bivi trivi a volte anche quadrivi sostanzialmente tu vivi una tua avventura prima di questo è un esempio prima di iniziare puoi maxarti le statistiche e a un certo punto dovrai fare delle scelte questi qui sono della sono sono di una serie particolare queste sono edizioni e li ho portati come memorabilia perché in italia intorno agli anni 80 è iniziato proprio tutto questo è un lupo solitario che è il capostipite esatto portato un po questo è uno dei più famosi più letti in italia in assoluto ancora edito in italia grazie a vincent book e benedizioni sono uscite anche sono uscite delle ristampe incartonato addirittura uscite esatto dei nuovi volumi bellissimi incartonato che devo dire copertina rigida con la coperta molto più alti molto più alti completamente rieditati che stanno arrivando questo il numero uno stiamo sta per uscire il numero 32 sì sì siamo a più di una trentina l'autore Joe Diver purtroppo è scomparso qualche anno fa mai avuto il piacere pensa di conoscere Joe Diver prima qualche mese prima della sua morte era stato gentilissimo aveva questa flemma molto british e è un autore comunque che ha reinventato in qualche modo il fantasy perché comunque di questi ci sono ovviamente la versione fantasy poi aveva anche scritto una serie post apocalittica che aveva un po meno successo rispetto al lupo solitario però era interessante perché aveva anche i malus per l'avvelenamento delle radiazioni era stato un po il capostipite di quel tipo di narrazione infatti io sono convinto che quelli che hanno creato fallout ci siano un po' ispirati una letturina l'hanno data secondo me come giusto che sia attenzione stiamo parlando di qualcosa di molto particolare che ancora oggi comunque va abbastanza diciamo che insieme a Dungeons and Dragons è un po' erano un po' le alternative a quelle che sarebbero stati poi i videogiochi i videogiochi quelli fantasy anche quelli proprio più preistorici avevano gli rpg preistorici avevano iniziato a prendere un po' spunto da Dungeons and Dragons e anche da lupo solitario è una cosa interessante perché quando poi tu devi prendere le scelte dovresti tirare in teoria un un dado in realtà qua c'è anche la tabella del destino che che in lupo solitario si è stata la prima volta che apparsa che cos'è la tabella del destino è una griglia numerica c'è un modo specifico di utilizzarla tu praticamente la usi quando sei in giro magari sei sull'autobus sei sul treno era un sistema hai solo la matita tappi gli occhi fai girare un po' metti giù e esce fuori il numero come se avessi fatto un sistema di incrocio particolare sostanzialmente era un modo per evitare di usare il dado quindi pensato per chi l'utilizzava viaggiando questi sono dei libri tascabili che erano stati creati specificamente per essere giocati in giro cioè il senso era che tu potessi giocare e immergerti nel mondo fantasy creato dall'autore ovunque tu fossi assolutamente era un po' una sorta di urania interattiva sì che questi erano già dei libri game evoluti dove c'era la scheda del personaggio si poteva mantenere le statistiche tra lettura e lettura le arti ramas le arti ramas gli oggetti l'inventario si poi ogni libro game ogni ambientazione aveva le sue regole questo per esempio alla corte dei rialturi erano i miei preferiti perché univano il fantasy una bella ironia anche un po storici era sì perché comunque era un po il ciclo orturiano più seriosi meno seriosi ma comunque affascinanti e oggi stiamo vivendo assolutamente una seconda età dell'oro negli ultimi due o tre anni legate libri game ne stanno uscendo una marea poi ve ne farò vedere tratti da giochi di ruolo tratti da videogame scritti d'autori di bestseller anche di narrativa che vanno dal libro game semplice a bivi leggo una storia e decido come orientarla quindi non ci sono dadi non c'è niente a libro game incredibilmente complessi non nella fruizione ma nel in quello che si può fare come per esempio terre leggendarie di edizione librarsi che è un open world si puoi decidere cosa fare dove andare e si collega volendo a tutti gli altri libri usciti questa è una cosa particolarmente interessante perché per l'appunto è anche un'idea strana se vogliamo il fatto di creare una sorta di open world letterario quindi non hai tanto i bivi puoi girare per il mondo di per il mondo che è stato sì c'è una storia un po come giocare a edel ring tu prendi hai la quest principale ma puoi fare un sacco di quest alternative non è facile adattare questo non è assolutamente facile al concetto letterario ce ne sono di tanti tipi ad esempio a caso quello natale in smoth quello c è un è un un omaggio lovecraft unito però ai cine panettoni è una roba stranissima è un'operazione secondo me spettacolare per allargare anche il mercato ma sì poi allora diciamo che i libri game rimangono sempre una nicchia però io trovo che la nicchia sia una delle cose più belle perché se tu riesci a trovare la tua nicchia avrai sempre un gruppo esteso perché la nicchia e comunque può essere stesa ci sono nicchie che sono gigantesche ci può stare sono sempre nicchie rispetto alla massa però comunque la nicchia io poi figurati sono 13 anni che vado avanti grazie alla nicchia quindi su youtube la nicchia importantissima viva la nicchia e adesso vi farei vedere visto che abbiamo parlato di lovecraft per esempio un bel libro cartonato bello questo dedicato a lovecraft questo è una serie di sei o sette libri sempre raven distribution vicent book che vengono tra l'altro 10 euro quindi un prezzo assolutamente accettabile quello che c'è per l'edizione che è secondo me un prezzo estremamente accettabile ovviamente il materiale di lettura è ridotto nel senso che è stampato molto grande ma tanto non è un libro di narrativa che devi leggere ma questi sono proprio i racconti più importanti di lovecraft portati al libro game quindi se voi avete letto il richiamo di cthulhu ritroverete in una traduzione magari diversa da quella che avete letto semplicemente diversa il racconto con la possibilità di scegliere cosa faranno i protagonisti questo secondo me è uno dei libri game più adatti insieme a il vampiro e la che appena uscito di claudio verniani quindi un autore di famoso autore di libri horror italiano sono particolarmente adatti per chi non ha mai letto libri game perché non hanno dati statistiche che magari possono all'inizio spaventare sono entry level tu lo leggi in questo caso capitoli anche molto lunghi e delle scelte quindi da far vedere a dei vostri amici da regalare da regalarvi se siete degli appassionati volete scoprire il mondo dei libri game io consiglio sempre di partire dai bivi semplici già lupo solitario che comunque capostipite del genere non è così entry level nel senso che a un certo punto i libri game hanno avuto un tale successo che hanno cercato di espandere il mercato anche per quelle persone che magari li trovano troppo complicati quindi sono nata delle lezioni un po più semplificate che sono diventate le entry level ma successive alle prime effettive però sono anche proprio modalità diverse del piacere di fruire il libro game questa ad esempio con questo esempio leggi anche di più leggi di più c'è chi ama avere un libro di narrativa dove fare qualche scelta e chi invece ama magari affrontare sfide come destiny quest di giochi uniti che un altro libro con un quantitativo sono 600 pagine con quasi un migliaio di bivi possibilità modalità di esplorazione e molto molto vasto quindi è per un pubblico che vuole questo tipo di esperienza si si sono nati anche dei libri game o meglio dei fumetti game ha iniziato uno dei primi che ho visto è panini con il fumetto game di dead pool che aveva anche la matita i dati si 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 ma figurati dead pool si presta tantissimo assolutamente e questo per esempio captive invece è un fumetto game bello funziona come un libro game ma avete in più l'interattività con il fumetto io adesso di tutti vi farò vedere sempre poche pagine per evitare di spoilerarvi quello che succede nei bivi c'è anche questo che secondo me è molto bello che è una rielaborazione un po di alice assolutamente ma fatta libro a libro game è un po un america mcg e alice si conosce via mi ha riconosciuto mia mia mi ha ricordato quello che era poi elis in madness esatto secondo di america mcg che ti porta nel mondo di alice quindi io ne ho portato in una selezione ampia per farvi vedere ci sono libro game come questo di ariste edizione aristea editore che vi consiglio di seguire perché sta sfornando un capolavoro dietro l'altro questo è un libro game dedicato al mondo del cyberpunk tra l'altro illustrato da caterina ladon che è una delle illustratrici italiane che attualmente fa illustrazioni per dangerous dragon e sembra per magic ci sono libri game dedicati al mondo come abbiamo visto prima dell'horror o specificamente particolare al mondo esatto per esempio qui dei vampiri perché questo libro game è fruibile visto da un personaggio e poi lo potete rigiocare visto dall'altro si capovolge il libro sono due libro game in uno che affrontano la stessa situazione ma due punti c'è anche il concetto di longevità se vogliamo assolutamente sono dei giochi veri e propri diciamo che erano proprio gli antesignani di quelli che sono stati poi gli rpg cioè se vi piacciono gli rpg videoludici questa è questo il corrispettivo letterario di quelle esperienze in particolare sì 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 una frizione narrativa poi pensa che da comunque questo concetto di libro game percorso a bivi sono nate anche delle serie tv dedicate netflix ha fatto dei prodotti dove potevi scegliere il primo è stato ben snatch bravi esatto poi aveva fatto se non sbaglio un episodio speciale di unbreakable kim smith hanno fatto addirittura su netflix spensa caro chilambil delle puntate interattive di bear grills esatto hanno fatto delle mie figlie li hanno guardati allo sfinimento per vedere cosa succedeva a ogni allora è un è un tipo di intrattenimento quello che sta passando leggermente in sordina perché bandersnatch ha avuto un certo successo a me non ha fatto impazzire perché il problema di quel tipo di di quel tipo di dinamica quando è in audiovisivo è quasi sempre ingannevole nel senso che non è veramente tutta questa manovra di questo spazio di manovra queste tutte queste scelte da poter fare e poi in bandersnatch alcune scelte erano un po così però era un esperimento ci poteva stare i libri che li apprezzo perché comunque nel corso degli anni sono diventati sempre più evoluti da quel punto di vista assolutamente a un certo punto c'era non mi ricordo forse era proprio questo qua scusami no questo qui che se non erro a un certo motivo mi chiedevo ma quante scelte ci sono in sto libro non non capivo non capivo come fosse possibile perché non ne facevo mezza identica ma come è possibile sta roba qua ci sono tra l'altro dei software gratuiti evoluti per gestire proprio la scrittura a bv perché ovviamente se non si tiene un pattern di quello che sta succedendo c'è un algoritmo si crea poi il cul de sac o magari il bug che non ti permette di non è semplice infatti c'è ci sono proprio dei veri dei veri propri algoritmi che vengono creati per per questo tipo di cose e anche nei videogiochi videogiochi scelte li adoro ma ho sempre quel problema lì nel senso che a volte mi sembra che le scelte non abbiano un reale un reale impatto nel nello sviluppo nei libri game invece forse perché per iscritto è più semplice hai quasi sempre una certa varietà nel lupo solitario un po meno ma grazie erano i primi era la prima volta che venivano pubblicati un esperimento quindi ci può stare però no no si è assolutamente voluta e poi per esempio in non ce l'ho qui da farvi vedere ma se poi vi piace l'argomento ditelo nei commenti certo e porteremo altri libri game c'è il cavaliere del sole nero o che è una scatola con un libro gigantesco cd musicale mappa dadi quindi per dare anche l'immersività nel gioco anche poi con l'ausilio del suono tutti i prodotti a un certo punto poi fanno anche le edizioni porno lusso per i connessi è normale normale però generalmente a parte qualche edizione cartonata avete visto che sono abbastanza flessibili io personalmente preferisco quelli non cartonati proprio perché il libro game è qualcosa che va usato non solo collezionismo difficilmente me lo gioco in poltrona io di solito me lo gioco quando vado via quando vado a una fiera vado in treno io in treno mi gioco il libro game conseguente anche io poi mi immergo talmente tanto che ogni tanto partono le saracche parolacce con la gente che mi guarda chiedendomi perché stia imprecando con un libretto in mano con un libretto in mano pensano che cacchio sta leggendo questo però comunque questo per far capire che per molti libri game sono il lupo solitario i librettini tascabili flessibili in stile urania in stile libro da edicola in realtà sono diventati molto più di assolutamente ci sono libri game dedicati all'esplorazione spaziale come questo che puoi gestire anche astronavi a fine per chi conosce i giochi di ruolo questo è un libro game nato da una delle sedi di gdr più longeve italiane in italiano che si ne requie questo mondo post apocalittico dove i zombie si sono i morti si risvegliano c'è una loro incredibile hanno iniziato a fare il libro game ci sono libro game come il marchio che trovate anche in versione digitale che secondo me è una buona evoluzione potete usarli da app con la comodità di autogestione di inventari e di bivi anche qui poi c'è chi ama la carta e non passerà mai sull'app e viceversa ci sono libro game che hanno vinto numerosi premi anche in italia come le fatiche di autolico quindi come vedete il mercato è veramente riesploso non è saturo tantissimi stanno cercando di entrarci alcuni ci hanno provato e sono tornati indietro anche mondadori erano usciti dei libri game erano usciti libri game di di e di ma non hanno forse in forcato la strada anche secondo me la campagna marketing giusta perché comunque bisogna saperli vendere perché ormai per molti libri game tra l'altro sono cose per bambini come tutto il sottobosco di questi prodotti ovviamente non è assolutamente vero ci sono per bambini ma ci sono anche questo per bambini assolutamente no questo assolutamente no e questo è fatto questo per esempio sì perché anche una connotazione comica è più leggera è un po il problema del nostro paese nostro paese nel nostro paese purtroppo a livello proprio societario di società abbiamo delle considerazioni di alcune cose che sono ancora un po indietro nel senso guardi i cartoni animati sei un uno che non crescerà mai assolutamente animati sono per forza per bambini e sappiamo tutti che non è effettivamente così stessa cosa accade per i videogiochi ama ai 35 anni giochi videogiochi ma che sfigato sei ma perché cosa fa capito è un po questo il discorso quindi libri game sono sempre stati considerati roba per ragazzini la narrativa ma in realtà è un'evoluzione ma che non è assolutamente vero ci sono autori affermati che si sono buttati su libri ci sarà un motivo ci sarà un motivo è durata abbastanza come puntata però secondo me ci sta perché avevamo tanto materiale da da mostrare se vi interessa come detto anche monkey ram di potete richiederci altri video su questo tipo di prodotti perché per gli appassionati sono delle chicche quelle che assolutamente la tua collezione privata questo fa parte della mia collezione sì che non li ho ancora letti tutti faccio ma sono tutti lì per essere letti assolutamente sta quindi noi vi ringraziamo vi ricordo che se volete supportare questo progetto potete anche solo cliccare il pulsante iscriviti sotto al player di questo video e se lo fate non dimenticate mi raccomando di cliccare anche sull'icona della campanella così siete aggiornati su tutti i video assolutamente sul canale noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata ciao a tutti ragazzi ciao a tutti buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti